Nico Trasporti contro Geriatria, seconda semifinale della Summer Cup categoria over 48, si gioca al fiore verde rame di Cagliari, Nico Trasporti che subito mette sotto torchio la formazione bianco-rossa, un po' l'imprecisione di Ottavio Orru, un po' la bravura di Luigi Cifelli, mandano le due squadre a riposo sul parziale di 0-0. Con le immagini realizzate dalla nostra Alba possiamo ora andare a vedere quello che succede nel corso dei secondi 25 minuti di gioco, formazione di casa ancora pericolosa, ancora con Ottavio Orru, bravo Luigi Cifelli da quest'altra parte, Nicola Serci direttamente da calcio piazzato come un fulminaccio al sereno, la Geriatria si porta in vantaggio, i bianco-rossi subito dopo avrebbero la palla del raddoppio, avrebbero la palla per qualificarsi alla finalissima, clamoroso l'errore commesso proprio da Serci così come sbaglia nella circostanza. Tiziano Monterastelli non sbaglia invece, Ottavio Orru, 1-1 al Fiore Verderame, pari e pata ma soprattutto pari e meritato, quello della formazione in maglia verde ancora pericolosa nel finale con Luigi Cifelli ancora assoluto protagonista. Si va ai calci di rigore che decreteranno la seconda finalista della Summer Cup per 48, parte Gambula e va a segno da quest'altra parte, Tolu, 1-1. Tocca adesso a Cristiano Deida col destro, spiazzato Masala, la Geriatria è di nuovo in vantaggio, Meloni, Cifelli da una parte e palla dall'altra, il pareggio della Nico Trasporti col brivido, Frau, tocca a Monterastelli di potenza, pallone sotto la traversa. Adesso è la volta di Stefano Carta, anche lui sceglie la potenza, pallone sotto la traversa, quindi il gol realizzato da Contri, Nicola Serci. Brivido per lui, palla che comunque entra in porta, brivido anche per Ambu, il pallone però è entrato, così dice il direttore di gara, Angelo Amirevole. Sbaglia Oggiano, il rigore decisivo lo calcia Franco Corona, Nico Trasporti che elimina Geriatria e vola in finale.